PAUER NANDO PAUER NANDO Non in giro per casa, no? Ssssss, ti prego parlo piano, mollina Dico io, ma è possibile, gocco de mamma? Dai, su! Ma le modende firmate ti sei comprato? Quella macchietta non è esattamente una firma, mammina No! Allora il solito problemino col gonfiore al pancino Problemi di meteorismo, gonfiore addominale, flatulenza ed erutazione troppo frequente È ora di provare il nuovo Ventila Stop Manzaretti in su posto Ci sei cascato Ventila Stop e niente più puzzette coi superpoteri Scusami bambina, ma ora ti devo lasciare, devo salvare il mondo io e... Bene, allora tra quindici minuti scendi dal setto e vieni a casa che fronda la gena, è chiaro? Adesso basta mamma, te lo dirò una volta per tutte Il mondo ha bisogno di... Basta, lo dico io, che si freddano i cannelloni, scendi Cannelloni? Arrivo mammina Accidenti, ci è mancato poco Un attimo, sto arrivando Aiuto! Paolo e Hernando, ti prego vieni a salvarmi! Signorina mi scusi, ma ho finito il turno, io... Si scriva questo numero? Veramente leggo che oggi il supereroe di turno è lei, però mi dica Sì, dunque, allora vediamo un attimo Questo è in vacanza, questo è un po' morto Questo... Accidenti, ma dove cavolo l'ho messo? Sì, sì, un attimo, un attimo, signorina Oh, eccolo! Paolo e Hernando! Sì, pronto? 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 Ma tu guarda ste donne, da! Nando, a casa! Arrivo mammina Arrivo mammina Power Nando è stato presentato da... Ventila Stop E niente più puzzette coi superpoteri Grazie a tutti! Grazie a tutti!